Buonasera, io mi chiamo Giovanni e mi interesso di religione e di numerologia e applicazione nella nostra vita. Da dove ci provengono i numeri che condizionano la nostra vita? Per esempio i quattro stagioni, per esempio i tre mesi per ogni stagione, per esempio i dodici di un tre mesi dell'anno, eccetera, eccetera. Ci vengono da quello che è un progetto di creazione. Questo progetto di creazione chiaramente origina in Dio. Perché è importante? Perché essendo lui il creatore è lui che determina lo scopo della nostra vita e anche quindi come possiamo realizzare questo scopo? La Bibbia ci dice che lo scopo della nostra vita è quello di raggiungere la felicità attraverso il raggiungimento della perfezione. Come possiamo realizzarlo? Attraverso un processo. In questo processo troviamo che il nostro percorso è scandito da numeri, come abbiamo detto il 3, il 4, il 7 e molti. Vediamo nella simbologia biblica e non il significato di questi numeri. Cominciamo dal numero 3. Il numero 3 nella religione, nella fattispecie cattolica rappresenta la perfezione in quanto rappresenta Dio. Dio è rappresentato come una trinità, padre, figlia, spirito santo. Con Giovanni Paolo II e Papa Luciano abbiamo anche una maggiore interpretazione che è quella di famiglia come immagine di Dio in quanto Dio è padre e madre e Gesù incarnato è il figlio. Immagine perfetta della famiglia. ma abbiamo anche nella Bibbia, nel primo capitolo della Bibbia abbiamo un altro 3 che sono le tre benedizioni. Che cosa sono le tre benedizioni? Sono il progetto che Dio dà all'uomo in cui l'uomo è chiamato ad agire in prima persona per l'autocreazione. Se l'uomo non partecipa alla creazione di se stesso non può essere un uomo libero. Potendo essere un uomo libero non può neanche essere simile all'immagine di Dio. Mentre lo scopo di Dio è di creare un uomo che è un essere a propria immagine e somiglianza. In questo progetto abbiamo le tre fasi. Crescete, moltiplicatevi e dominate la terra. Il crescete che cosa comporta? Comporta l'unità dell'individuo nei suoi tre aspetti fondamentali che sono l'intelligenza, la volontà e il sentimento. E anche qui ritroviamo il numero tre. Non solo, ma se uniamo la mente e il corpo, nel progetto abbiamo l'individuo perfetto. Che non significa non sbagliare, non significa saper far tutto, ma perfezione intesa proprio come armonia dell'individuo. L'individuo che è armonico in se stesso, nel suo agire, in cui l'intelligenza, la volontà e il sentimento agiscono in modo armonico, senza disfunzione, senza contrasti l'uno con l'altro. Non c'è la mente che prevale sul corpo, non c'è il corpo con i suoi desideri che prevale sulla mente. Non solo, ma abbiamo in questo progetto un altro numero tre. Perché la crescita dell'individuo non è una crescita immediata, non è uno spiocco di vita, ma è un percorso in cui è un principio di formazione, poi di crescita, fino all'aggiungimento della completezza. Quindi anche qui abbiamo in questo progetto dei numeri tre, che ci aiutano in questo percorso, che porta l'uomo ad essere di perfezione, che porta l'uomo ad essere immagini sostanziali di Dio. Poi abbiamo una seconda fase, altrettanto importante, che è quella del di moltiplicarsi. Quando due individui hanno raggiunto la perfezione in se stessa, unendosi, creano una famiglia, la quale famiglia diventa l'immagine sostanziale, cioè maschio, femmina, centrati su Dio, che poi creano una nuova vita. La creazione di una nuova vita si fa diventare co-creatori con Dio nel progetto completo della natura. Poi abbiamo la terza fase, sempre fondata sul numero tre, che è l'individuo, intesa come umanità, che si rapporta con la natura in armonia, centrati su Dio, per realizzare quello che è il progetto ultimo di Dio, quello che chiamiamo nella religione il regno dei Cieli sulla Terra.